Buonasera, 30 minuti dopo la mezzanotte per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo dalla questione vaccini, perché il Governo ha messo ordine sulle procedure da seguire con una circolare firmata dal Ministero della Salute. Sentiamo i particolari. Prima un colloquio col medico, poi la firma sul consenso informato. Sarà questo l'iter per poter ottenere anche la seconda dose di AstraZeneca per gli under 60 ed evitare la vaccinazione eterologa. La procedura per evitare il mix vaccinale annunciata ieri dal Premier Draghi è contenuta nella circolare firmata oggi dal Ministro della Salute. Dopo la decisione di rendere disponibili le dosi dell'azienda anglosvedese solo a chi ha più di 60 anni e la richiesta di chiarimento da parte delle regioni, arriva quindi l'apertura da parte del Governo, ma il Comitato Tecnico Scientifico, che la prossima settimana dovrà esprimersi sull'obbligatorietà delle mascherine all'aperto, ribadisce la vaccinazione eterologa e sicura e resta l'indicazione prioritaria. Dal Ministero della Salute arriva anche la raccomandazione relativa al vaccino di Johnson & Johnson per soggetti di età superiore ai 60 anni. Il numero totale delle vaccinazioni supera ora i 45 milioni, 15 milioni e 400 mila gli immunizzati, numeri che incidono nella continua discesa della curva della pandemia in un'Italia che da lunedì sarà tutta bianca, ad eccezione della Val d'Aosta. I nuovi casi oggi sono 1.200 a fronte di un numero rilevante di tamponi processati, 250 mila per un tasso di positività stabile allo 0,5%. Diminuiscono le vittime, sono 28 nelle ultime 24 ore, scende ancora la pressione sulle strutture ospedaliere, calano infatti i posti rialto occupati sia nei reparti Covid che in terapia intensiva. Una notizia arrivata da poco in redazione per l'omicidio di Desiree Mariottini, la sedicenne di Latina, morta il 19 ottobre del 2019 a Roma. La Corte d'Assise di Roma ha comuninato due ergastoli e due condanne a 27 anni e 24 e 6 mesi per i quattro imputati. La sentenza è arrivata dopo nove ore di Camera di Consiglio e condannati sono tutti cittadini africani ed erano accusati a vario titolo di aver violentato e ucciso la giovane con un mix di droghe. Il corpo senza vita di Desiree venne trovato in uno stabile e abbandonato nel quartiere di San Lorenzo. Uno dei quattro, Brian Mint, si è saputo in serata condannato a 24 anni e mezzo, tornerà libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. Parliamo di politica perché la Lega è scesa in piazza a Roma con un Matteo Salvini che ha invitato a dire basta alle gelosie per un centrodestra unito, ma il leader del Carroccio ha anche attaccato l'Associazione Nazionale e i magistrati sui referendum della giustizia. Salvini porta in piazza la Lega di Governo e spinge per l'ultimo passo delle riaperture e l'addio alle mascherine e ringrazio Draghi per aver chiesto un parere al CTS e dice pronto ad intestarsi la svolta. Dalla piazza senza simboli di partito lancia poi un appello agli alleati del centrodestra, necessario unirsi a partire da una carta fondativa di valori comuni. E arriverò all'obiettivo, perché sono un testone, a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l'Italia e gli italiani, di lasciare da parte gelosie, egoismi, steccati, divisioni e di unirsi. Salvini riconquista la piazza dopo un anno di restrizioni per celebrare il paese che riparte grazie anche alla Lega e al Governo, perché prima viene l'Italia e poi gli interessi di partito, il filo conduttore della manifestazione. E proprio da qui lancia anche la campagna per le prossime amministrative che avranno come cuore proprio la capitale, tra i primi a salire sul palco i candidati del centrodestra per il Campidoglio, Michetti e Matone. Altro tema caldo poi il referendum sulla giustizia che la Lega propone insieme ai radicali che arrivano sul palco anticipati da una polemica con l'ANM che ha annunciato una ferma reazione e Salvini che attacca. Spero che chi di dovere intervenga, perché quando si propongono dei referendum i cittadini sono liberi di firmare o non firmare. La magistratura, o meglio una sua parte, non può minacciare azioni. Andiamo all'estero. L'ultraconservatore Ebrahim Raisi è il nuovo presidente dell'Iran. Ha vinto con il 62% delle preferenze in un'elezione con l'affluenza più bassa della storia recente della Repubblica Islamica. Tutto come previsto un successo quello di Ebrahim Raisi pronto già da maggio scorso quando i vertici della Repubblica Islamica decisero l'esclusione dalle elezioni presidenziali di figure di spicco del fronte moderato e riformista. Tutto come previsto un successo quello di Ebrahim Raisi pronto già da maggio scorso quando i vertici della Repubblica Islamica decisero l'esclusione dalle elezioni presidenziali di figure di spicco del fronte moderato e riformista. Dopo quattro anni di presidenza moderata con Hassan Rouhani, la mossa a Raisi sembra mirata a restringere ulteriormente la cerchia di potere intorno alla guida spirituale di Ali Kamenei, di cui Raisi è quasi un figlioccio, un fedelissimo che ora dovrà risollevare in qualche modo il paese, anzitutto garantendo la prosecuzione dei colloqui di Vienna mirati a riportare l'America al tavolo negoziale sul programma nucleare iraniano e alla rimozione delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump che di fatto hanno innescato una grave crisi economica. Raisi diverrà presidente il prossimo 3 agosto, il negoziato ha sei settimane dunque per andare in porto, ancora sotto la guida del governo moderato. Teheran chiede per il futuro il totale rispetto degli accordi siglati nel 2015 senza sostanziali modifiche, oltre alla ripresa degli scambi commerciali con l'Occidente. Intanto contro Raisi arriva immediata la denuncia senza mezzi termini del governo israeliano che lo considera il presidente più estremista mai eletto in Iran. La sua elezione, dicono da Gerusalemme, mostra sempre più chiaramente la verità sul programma nucleare degli Ayatollah, verità di cui tutti noi dovremmo preoccuparci. Raisi da anni è chiamato il macellaio di Teheran, appellativo legato, secondo più di un intelligence, alla sua partecipazione alla fine degli anni Ottanta all'esecuzione extra giudiziale di oltre 30.000 oppositori. Parliamo degli europei di calcio. Nell'ultimo match di oggi Spagna e Polonia hanno pareggiato 1-1. Gruppo F apertissimo dopo il pareggio 1-1 tra Ungheria e Francia ed il successo 4-2 della Germania sul Portogallo. E domani tocca agli azzurri contro il Galles. Ci saranno nomi nuovi in quasi tutti i reparti fra gli undici che sfideranno il Galles. Non si può rinunciare al turnover quando si arriva alla terza partita nel giro di poco più di una settimana. Partendo da qui, Mancini rivoluziona la formazione concedendo un turno di riposo a molti titolari. Il CT non pensa a calcoli né a dietrologie, vuole vincere. Ma sarebbe troppo rischioso schierare ancora una volta Insigne, Locatelli o Spinazzola in un match importante soprattutto per gli avversari, chiamati a guadagnarsi la qualificazione. Il Galles è una squadra difficile da affrontare. Oramai anni che veleggia nella parte alta del ranking. Quindi vuol dire che ha giocatori di qualità. È una squadra britannica quindi forte fisicamente. Sicuramente sarà una partita difficile perché comunque hanno quattro punti quindi non sono gli ultimi arrivati. Hanno fatto già una semifinale di un europeo se non sbaglio. Quindi insomma sarà una partita dura da giocare bene cercando di vincerla. Questo è il nostro obiettivo. In rampa di lancio Emerson e Chiesa destinati a far riposare Spinazzola e Insigne. In previsione dell'ottavo di finale di sabato prossimo dovrà invece macinare Minuti Verratti che ha concluso la riabilitazione dopo l'infortunio. In attacco Belotti che dovrebbe fare coppia con Immobile. E per gli azzurri un avversario in più. Sono previsti 30 gradi di temperatura e un 40% di umidità. Un motivo in più per fare turnover. Negli sport del motore in pista le moto e la Formula 1. In Germania la pole della Ducati del francese Zarcon, miglior italiano, Bagnaia decimo. Nelle qualifiche della Formula 1 invece si è riproposto il duello Verstappen-Hamilton. L'olandese ha battuto il campione del mondo per 258 millesimi di secondo. Seconda fila invece per i rispettivi compagni di colori, Bottas e Perez. Quinto Sainz con la più veloce delle Ferrari. L'altra rossa, staccata di quasi un secondo, non è andata oltre la settima posizione con Leclerc. Ma per la gara di domani la pioggia prevista dai bollettini meteo potrebbe rimescolare le carte. Ed è tutto. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento.